No, no, caro Morelli, tu avete detto che il primo Consiglio dei Ministri, il primo Consiglio dei Ministri convocato, voi avreste fatto gli interventi di Quotacento, la Fattax, le dentiere, soldi per tutti, la Meloni era scatenata in Parlamento, per cui un po' di coerenza, io a contrario di quello che hanno fatto loro, riconosco che questa è l'unica manovra possibile, loro non hanno fatto solo il governo Draghi. Ringrazio Faraone perché oltre all'intervento ha fatto anche la memoria storica della professione e quindi mi ha fatto anche da assistente conduttore e per questo sono sicuro che Mediaset gli farà un regalo a Natale.